buongiorno a tutti siamo anche in pantofole quindi famiglia proprio ciao ciao ragazzi allora che bellezza siamo riusciti a insomma a vederci un pochino insomma anche se in maniera così insomma non come avremmo sperato tutti credo però meglio di nulla in attesa di tempi migliori intanto vi posso raccontare quello che sarà il futuro un po professionale se lo avete letto appunto che abbiamo iniziato a lavorare ad un disco nuovo con molta molta calma e però le prime cose sembrano mi sembrano sempre più belle delle precedenti ma io sono un po cosmonata che avrà dove soffia il vento e abbracerai tu come sai fare anche se solo nel mio padre là dove non ci separeremo mai aspettami fino al momento in cui tutto sarà diverso e ci rincontreremo dove sarà a 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 simbolicamente diventerete padrini anche di un albero di frutta nella nostra italia un albero che darà dei frutti concreti una quota del primo raccolto andrà direttamente ad uno di voi che vincendoli li riceverà a casa Angelo ci dirà come? molto semplicemente rispondendo a una facile facile domanda il primo che risponderà sarà la risposta corretta in chat vincerà questo premio allora nella sua lunghissima carriera Gio Barbieri ha scritto due canzoni due sole canzoni in napoletano una è Eva Sannur e l'altra è via con le risposte così che il mio passaporto da approcci dal mare è morto io devo viaggiare ma io sono ecco Oriana Oriana finita Oriana finesta si chiama finita Oriana finita che va piano ma lontano e lontano e a macchimera però quando viene sera il mio pensiero vola qui ma tu guarda qui che casa che casa che cosa che rida che io pianga che io rida è il gusto per me ma tu guarda qui che casa che casa di noce moscata accada quello che accada e voglio tornare prima di salutarvi io volevo chiamare Maria Elena che sta di là per chiedere di venire di qua così che noi siamo organizzati con una piccola bottiglina insomma è un bischerino sono le 11.48 quindi è un po' presto però ecco però insomma volemmo prima di salutarvi brindare questo anno nuovo che sia molto ma molto molto migliore di quello vado vado vai 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 mi sentite senza si stappava senza il botto non la fate il botto auguri 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 a tutti ragazzi grazie veramente per questa bellissima straordinaria vi voglio bene non mi mancate mi invitiamo sempre grazie 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 di tutto sempre grazie grazie grazie